Sì però no che non si può, solo se tu dirai però che davvero tu mi odi un po' perché non si può, non si può. Ma quante volte l'avversione ci porta contro la gente comune, vogliamo solo metterli sotto, non ce la facciamo più. Quante calugne ci inventiamo allora, cento chilometri all'ora, perché solo una volta, più di una volta sì, si può. Quanto davvero stiamo bene senza la gente comune, perché qualche volta si può avere anche la luna. Ma con voi non si può, troppo semplici ai mai però, per viaggiare nel tempo, amarsi davvero, volere ogni tanto qualcosa di davvero grandessi. E allora io mi dico che cosa si può fare ora, la versione, la versione, la versione.